Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma ci sono code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la variante di Valico e Calenzano. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita e San Casciano. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Sulla statale 67 Toscor Magnola ha chiuso per lavori il tratto tra l'incrocio Pontassieve statale 69 e l'incrocio per la Rufina in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!